Pagare più spesso con la carta di credito per pagare meno ogni giorno. Al piano terra del Palazzo dell'ONU da New York, Giuseppe Conte annuncia un patto con i contribuenti contro l'evasione che ruoterà attorno a una sorta di meccanismo premiale del cittadino che a lungo andare faccia emergere l'evasione fiscale. Un'operazione imperniata su più interventi ma che avrà come punti fermi gli incentivi destinati sia ad attività economiche e professionali che si doteranno di POS e altri terminali per la moneta elettronica sia a chi effettua i pagamenti. La direzione di marcia sembrerebbe quella giusta ma per conseguire questo obiettivo gli incentivi per gli esercenti e la riduzione delle commissioni destinate a scendere a zero per importi fino a 5 euro potrebbero non bastare. La convenienza infatti scatterebbe se il ricorso agli strumenti elettronici diventasse la condizione per poter fruire delle attuali detrazioni IRPEF sulle spese medico-universitarie e tutte le altre. Insomma lo sconto fiscale del 19% spetterebbe solo a chi usa una carta elettronica per pagare il medico, la palestra dei figli, le spese funebri o quelle dell'università. Chi paga in contanti perderebbe il diritto alla detrazione. Ottime notizie per ora solo allo studio in un mix di misure da inserire nella legge di bilancio nel decreto fiscale che tuttavia si scontrano con l'aumento delle bollette ormai alle porte. A partire dal 1 ottobre saliranno le bollette della luce e del gas. L'elettricità subirà un rincaro del 2,6% e il metano del 3,9%. Rincari che si sentiranno a partire dal quarto trimestre dell'anno. Nel complesso del 2019 la spesa delle famiglie italiane rispetto al 2018 vedrà un rincaro dell'1%.